Siamo a Venezia, la Rolotti At Music è arrivata qui, siamo sul canale della Giudecca, quello è l'ex mulino Stucchi che adesso è un hotel, qui si fermano gli yacht, qui c'è la passeggiata di tutti i veneziani, questo era il nostro salotto oggi, è finita, adesso andiamo in live, poi scegliamo quelli in live, però avere la piccola Rolotti, il Fiat Music Studio a Venezia è qualcosa di meraviglioso, fantastico. Allora, questi sono i primi arrivati stamattina, oggi è domenica 25 giugno. Il tempo non promette molto bene, quindi facciamo la foto subito con i primi arrivati perché dopo mi sa che piova e quindi non è, però il Fiat Music Studio a Venezia, guarda quel posto, gira, gira, guarda, là c'è il Redentore, quella è la chiesa del Redentore, qui siamo alle Zattere, ecco qua, qui siamo nell'O, nel Venice Yacht, dove scappi, nel Venice Yacht di Germolino Stuppi, che oggi è un hotel, ciao ragazzo, in gamba eh, in gamba, andiamo dai. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Che bello vedete, qui fuori vedo a fare le foto, vedo dei ragazzi con le chitarre, con i violini che dopo entrano.